Ben trovati e benvenuti a Spoiler Speciale Elezioni, il format che ci sta accompagnando verso le elezioni regionali del 10 marzo. Mancano ormai pochi giorni al voto in Abruzzo, nel frattempo c'è stato un altro fatto politico importante, le elezioni regionali in Sardegna, vinte dal centro-sinistra, allargato e da Alessandra Todd. Noi parleremo di tutto questo e di molto altro ancora con un ospite d'eccezione che qui in questi giorni è in Abruzzo per sostenere la candidatura di Luciano D'Amico alla Presidenza della Regione. Do quindi il benvenuto a Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio e attuale Presidente del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Conte, prima di tuffarci nel clima elettorale di questi giorni, inevitabile un riferimento al tema del conflitto in Ucraina. C'è stata la firma del patto decennale da parte dei paesi del G7 e quindi anche dell'Italia per gli aiuti all'Ucraina, aiuti anche ai militari. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha detto che la guerra non è impossibile e che è bene che l'Europa si armi. Cosa significa tutto questo e soprattutto come se ne esce, visto che forse nella fase iniziale del conflitto c'erano i margini per un negoziato di pace, ma allo Stato attuale rischierebbe anche di tradursi in una sorta di resa alla Russia dagli esiti potenzialmente devastanti per la regione e per l'intera Europa. Di lei ha detto bene una cosa che condivido. Avremmo dovuto subito, sin dall'inizio, impostare un negoziato e quindi cercare di recuperare la sostanza politica che è anche un dialogo attraverso sforzi diplomatici, senza rendersi mai, per cercare di trovare una via d'uscita. Perché era evidente che un confronto bellico con la Russia, inseguire una vittoria militare, come ancora adesso stanno facendo sulla Russia, a 6.000 testate nucleari, è una follia, significa accettare il rischio di una deflagrazione nucleare, non ci possiamo permettere. E ovviamente quindi il mondo migliore per tutelare la popolazione ucraina era quello. E lo è ancora oggi, guardi, perché non c'è altra via d'uscita. Soltanto che bisognava impostare un discorso diverso con tutti i player internazionali, con tutta la comunità internazionale. Anche la Cina, che è stata accacciata via e stromessa, invece dovevamo sederci a un tavolo e convincere il Putin. Ma il potere negoziale non è sbilanciato dalla parte della Russia in una fase come questa? Guardi, lo è nel momento in cui tu insegui una strategia che è semplicemente bellicista, con un escalation militare e poi rimedi una sconfitta sul campo. Ma se noi, dopo le prime forniture, come abbiamo fatto, avessimo impostato questo negoziato, potevamo assolutamente avere un margine maggiore di potere negoziale. Sa cosa è che ci toglie il potere negoziale realmente? Sono il fatto che ci arriveranno le elezioni americane. E tutte le opinioni pubbliche occidentali, anche quelle americane, sono stanche di sostenere questa prospettiva di un conflitto, di un escalation militare senza più controllo. E' quello che ci rende, noi siamo delle democrazie, è quello che ci rende più vulnerabili e più deboli. Ecco perché io dico, comunque dobbiamo metterci intorno a un tavolo, premere per coinvolgere, cercare di mantenere, di contemperare gli interessi in gioco e tutelare efficacemente il diritto alla sovranità della popolazione ucraina. Ecco, intanto proseguono i bombardamenti anche in Palestina, è una notizia di pochi giorni fa, insomma, oltre 100 civili uccisi, la conta dei morti, insomma, è salita a quasi 30.000 persone, ci sono proteste un po' in tutta Italia, ci sono proteste nel resto del mondo, ci sono le pressioni della comunità internazionale, eppure i bombardamenti continuano, anche su questo versante. Come si ferma Israele? Ma io ho trovato, ho condannato con fermezza anche l'atteggiamento vile, codardo del governo italiano, per due volte ha votato, si è astenuta sulla risoluzione che contemplava il cessato del fuoco in Gaza. Ora io dico, dovevamo aspettare la strage dell'altro giorno del pane, cosiddetta del pane, quell'eccidio, quella strage carneficina su persone che vogliono semplicemente sfamarsi per avere una reazione? E fino adesso 30.000 civili palestinesi, di cui il 70% donne e bambini, non contano nulla, dobbiamo svegliarci adesso? Adesso la nostra Presidente, Giorgia Milone, è andata a Washington, l'abbiamo visto, è andata a prendere nuove istruzioni. Spero che Biden le abbia date, abbia spiegato che l'America ormai molto prima di noi si è stancata di continuare a coprire questo governo di Netanyahu che sta facendo una strage inaccettabile, una carnificina inaccettabile che tra l'altro danneggia la causa israeliana. Attenzione, sta fomentando l'odio antisemita, antisraeliano in tutto il mondo e non ce lo possiamo permettere. Perché peraltro, ricordiamoci, Israele è stata attaccata in modo atroce da Massa il 7 ottobre. Quindi questa cosa è inaccettabile e non giova a Israele. Non è questo il modo per reagire. Ovviamente ce ne sono tanti altri, ma non è questo il modo per reagire. Adesso speriamo che ritorni con delle istruzioni, Giorgia Meloni, abbiamo visto che Biden l'ha baciata anche in testa. Molti silenzi diciamo. Però io dico, noi siamo in una democrazia, dovrebbe raccontarci quali sono queste istruzioni. Venga in Parlamento, ce lo riferisca. Cioè lei non può gestire la politica, essere in questo modo. Ci dica quali sono le istruzioni ricevute da Biden. Ci dica questo accordo di 10 anni che impegna evidentemente molto al di là del suo governo, della durata del suo governo, con l'Ucraina, con questo appoggio in Ucraina. Venga a dirci che il Parlamento non può prendere impegni politici o militari di questo tipo. L'altro giorno è stata votata in una risoluzione del Parlamento europeo da tutte le forze politiche italiane, meno il Movimento 5 Stelle, che impegna il nostro Stato membro, l'Italia, a rifornire di armi per 5 miliardi l'anno l'Ucraina. Ma noi non abbiamo i soldi per la sanità, non abbiamo i soldi per le infrastrutture, non abbiamo i soldi per le scuole. Come facciamo a dare 5 miliardi all'anno all'Ucraina in una situazione in cui tutto il ceto medio, non dico le fasce più deboli della popolazione, tutto il ceto medio sta soffrendo, non arriva a fine mese. Ecco, sperando che naturalmente a livello internazionale si trovi la chiave per instaurare un clima favorevole alla pace, veniamo alle cose di casa nostra. Domenica scorsa si è votato in Sardegna, l'alleanza PD-Movimento 5 Stelle-Sinistra Italiana Verdi ha funzionato, ha vinto una candidata proprio del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde, nonostante l'azione di disturbo di un altro candidato del centrosinistra. Questo cosa significa? Significa che il clima è cambiato, che sta cambiando, è troppo presto per dirlo e in che misura ritiene che il successo in Sardegna possa anche influenzare il voto in Abruzzo. Io non voglio fare l'analista politico, io posso riferire quel che mi raccontano le persone che incontro, la mattina e la sera, girando i territori, fermandomi a parlare con persone molto semplici, con intellettuali, con professionisti, con operai, con insegnanti. Quello che ho visto in Sardegna lo sto vedendo anche qui e sono due gli elementi, secondo me, che contano di più. Da un lato c'è il giudizio sull'amministrazione e la giunta regionale uscente. In Sardegna è stato negativo per la realtà dei fatti, per la qualità di vita scarsissima offerta ai concittadini sardi. Ecco, questo elemento lo ritrovo anche qui in Abruzzo. C'è tanta insoddisfazione per le prestazioni sanitarie insufficienti, si chiudono prestiti sanitari, non c'è la possibilità di avere... Le liste d'attesa sono lunghissime, cioè il dito alla salute qui in Abruzzo non è assicurato. La gente si ribella, sta coltivando un moto di ribellione e in più non c'è neppure serietà nell'affrontare il problema delle infrastrutture. Anche l'ultimo, da ultimo, il discorso dopo aver definanziato, cancellato i finanziamenti per la ferrovia Roma-Pescara, che è stato mio pallino quando ero al governo, la impostai, la lancia io, e qui Marsilio non disse nulla quando furono tolti quei finanziamenti. Adesso qualche giorno dal voto la si rifinanzia, peraltro solo per una cifra inferiore. Parliamo dell'8-1 e dell'8-2. Stanno finanziando, diciamolo, la Pescara Chieti, non la Roma-Pescara. 720 milioni. Quindi una cifra irrisoria, ridicola, cioè una marchettina elettorale. Ma la gente non si fa a prendere in gioco così. Quindi a un lato c'è l'insoddisfazione per un'aggiunta uscente e per come ha gestito questi cinque anni l'Abruzzo. E dall'altro c'è la voglia invece di un rinnovamento che viene in questo caso identificato in una persona molto seria, l'ex elettore dell'Università di Teramo, una persona che è un economista competente e ha gestito anche la Respubblica, come sappiamo, Tua, l'ARPA, eccetera. E quindi è una persona che ha somma in sé competenza, capacità e anche voglia di rinnovare il patto con gli elettori abruzzesi. Senta, la Todde in campagna elettorale sul governo Meloni è andata giù duro. Ha parlato di un governo di fascisti in riferimento alle manganellate agli studenti di Pisa. Lei condivide quelle parole. Ma guardi, sicuramente io credo che i fratelli d'Italia abbiano completamente sbagliato di fronte a quella... le dichiarazioni che sono uscite sono dichiarazioni inaccettabili. Nella misura in cui sono state tutte dichiarazioni, le ho chiamate pelose, tutte a favore della polizia, quasi che si cercasse un consenso elettorale da parte delle forze di polizia. Ma se c'è qualcuno che ha sbagliato, uno deve dire, in una democrazia, con delle regole, con uno stato di diritto, c'è stata una reazione evidentemente eccessiva. Bisogna accertare se c'è stato un responsabile, punto, senza drammatizzare. Perché noi siamo con le forze di polizia. Le forze di polizia ogni giorno tutelano la nostra integrità, la nostra sicurezza. Ci mancherebbe. Però questo fatto cosa ci dice sul piano politico? Però qui il problema è la responsabilità collettiva del governo. La responsabilità collettiva del governo è quello di creare un clima repressivo, anche attraverso le norme. A me tocca particolarmente quella del blocco stradale. Prima era un illecito amministrativo. Loro vogliono rendere una pena detentiva severamente punita. Se c'è addirittura l'interruzione del traffico, un blocco stradale. Cioè loro stanno andando a reprimere, anche con norme, quelle che sono le manifestazioni del pensio critico, della libera espressione del pensiero, del dissenso politico. Cioè questo è il rischio, c'è il rischio effettivo dal suo punto di vista di una torsione autoritaria. Allora, purtroppo, guardi, è molto strano. È un governo, è una cultura di governo questo. che da un lato fa norme di favore per evasori corrotti e ovviamente agevola anche appalti che vengono assegnati, affidati direttamente e non in trasparenza. Quindi c'è tutta una classe tra politici, imprenditori amici, evasori corrotti che viene agevolata dalle loro norme. E dall'altro invece si puniscono i liberi cittadini che protestano, i liberi cittadini che si uniscono per ascoltare musica, il famoso reparti e via discorrendo. Cioè io vedo una divisione, e parliamo di sanità, parliamo di giustizia, parliamo di istruzione, stiamo andando verso cittadini serie A e cittadini serie B a tutti i livelli. La gente comune è in fascia B, per tutto, che si tratti di servizio di giustizia, servizio sanitario, servizio di formazione, eccetera. Invece con questa destra noi stiamo andando verso poi i cittadini serie A, che sono la classe politica, con i privilegi, eccetera. si aboliscano reati, l'abuso di potere, l'abuso ufficio, viene abolito. Cioè addirittura si agevolano un'azione discrezionale di tutti gli amministratori pubblici. E poi ovviamente dei politici, dicevo, imprenditori, corrotti, evasori. Ecco, un paese in cui si acclarano le diseguaglianze. La legge era uguale per tutti? Benissimo, non lo è più. Anzi, cambiamo la legge. Però, ecco, di fronte ad un quadro così negativo, così deteriore nel giudizio dell'azione di questo governo, probabilmente gli elettori si aspetterebbero anche una risposta eccezionale da parte delle opposizioni. E in tal senso è evidente anche che l'alleanza messa in campo in Sardegna, dove la vittoria della Todda è stata favorita anche dagli errori e dai contrasti interni, diciamo, al centro-destra, risulterebbe, ecco, quel tipo di alleanza, quel campo largo ma non larghissimo, forse insufficiente. E allora lei, per battere questa destra a livello nazionale, sarebbe pronto a costruire un campo ancora più largo di quello visto in Sardegna e quindi ad includere anche forze come Renzi, come Italia Viva di Renzi, Azione di Calenda, che peraltro proprio in Abruzzo fanno parte della coalizione. Guardi, qui non sono formule astratte. La politica non è che ha delle formule, delle alchimie... Però i numeri, i numeri sono quelli. No, ma guardi, no, non funziona così la politica, ma lo dimostrano storicamente. Tutte quelle alleanze che sono diventate delle accozzaglie hanno perso numericamente, perché se tu perdi coesione e credibilità del progetto, tu non hai la sommatoria delle forze politiche che in questo momento fa un sondaggio e metti insieme e rimane quindi la sommatoria algebrica. Non funziona così la politica. Cioè oggi se tu metti dei compagni di viaggio che sono palesemente inaffidabili, compagni di viaggio che addirittura hanno scelto di fare affari più che politica, quelli lì ti fanno perdere consenso. Quindi non è vero che si aggiunge un consenso. Addirittura rischiamo il mio elettorato, la mia comunità esigentissima, in materia di questione etica, l'etica pubblica, questione di legalità, obiettivi chiari, coerenti, transizione ecologica. Noi non possiamo fare più, non permetteremo mai dove ci siamo noi, che si fanno inceneritori, si ritorna al passato per produrre emissioni inquinanti, eccetera, con impianti vecchi di decenni. Mi sembra di capire che il perimetro a livello nazionale è quello della Sardegna. Se io venissi meno a questi principi, io perderei, adesso che cosa mi danno? Dico i sondaggi nazionali, che ne so, il 17%, benissimo, ma io perdo, altro che il 17%, ma io scendo, ma io stesso non lo farei mai, attenzione, perché i nostri principi non sono negoziabili. Quindi allora lei non può mettere insieme una cozzaglia di persone e poi dire, beh, adesso c'è la sommatura, non funziona così. Bisogna avere progetti seri, credibili, come in Sardegna, coerenti, con compagni di agio affidabili. E questa è l'unica politica che vogliono i cittadini. E mi permetta di dire una cosa, sicuramente lei l'ha detto. Quale sarebbe la risposta eccezionale, mi chiede da parte delle forze politiche? Ma qui la risposta eccezionale la devono dare i cittadini abruzzesi, i quali dovrebbero, e io vedo che c'è tanto malcontento, dire basta con un'aggiunta che ha avuto cinque anni per cambiare volto, migliorare la qualità di vita delle nostre vite. Questo non è successo. Ora, io non voglio assolutamente parlare male di nessuno. Non so se per questione di incapacità di Marsilio, o perché anche una condizione di vita personale, essendo vivendo a Roma e facendo il pendolare, probabilmente non è riuscito a esprimere anche per ragioni familiari tutta la sua, come dire, possibile, il suo possibile impegno. Sta di fatto che questa, ecco, lì forse il governo di Giorgia Meloni viene chiamato in causa, perché in Sardegna impone Truzzo, che era il meno amato tra i sindaci d'Italia, però umilia anche i propri alleati. Qui impone ancora per la seconda volta il suo amichetto, tra virgolette, cioè la persona più fidata, cioè la logica della fedeltà, dell'appartenenza, e non di comprendere il territorio e trovare l'interprete più adatto. Ecco, è in dubbio che dopo quello che è accaduto in Sardegna, ancora di più si stanno concentrando le attenzioni degli osservatori, dei media, anche dei leader politici nazionali che stanno arrivando in massa, state arrivando in massa in Abruzzo per sostenere i rispettivi candidati. In qualche modo e in che misura questo test sull'Abruzzo può trasformarsi anche un test sul governo Meloni e che tipo di ripercussioni potrebbe produrre sugli equilibri politici nazionali e sul governo? Guardi, io ritengo sempre che i cittadini abruzzesi debbano votare per la loro regione, per il loro futuro, e non debbano stare lì a guardare l'impatto, questi ragionamenti che facciamo. Ecco, noi molti giornalisti, anche molti politologi, fanno a livello nazionale. Quindi questa è la prima cosa, cittadini abruzzesi, siete contenti della giunta dell'amministrazione di questi cinque anni? Sì o no? Questo è il tema fondamentale. Poi è chiaro che se loro questo malcontento si traduce nelle urne e questa esigenza di rinnovamento di una persona competente, un economista serio, un economista capace, onesto, come d'amico, dovesse avere una conseguenza nelle urne, questo significherebbe un grave, io penso sicuramente, segnale per Giorgia Meloni che ha chigi, proprio perché Marsilio è la persona che lei ha scelto in termini di fedeltà, di appartenenza. Cioè purtroppo lei parla di meritocrazia a Giorgia Meloni, però poi mette la sorella a governare il partito, il cognato ministro, i parenti li hanno esauriti tutti. Adesso sono passati agli amici più fedeli, ma non si governa un paese sulla base delle fedeltà e delle appartenenze, si governa un paese sulla base della disponibilità a un servizio veramente per il bene comune, sulla base effettivamente delle competenze e capacità. Ecco, un paio di domande proprio a risposta flash, che il tempo che abbiamo concordato sta per esaurirsi. Innanzitutto su D'Amico, insomma lei ha passato diverso tempo con lui in questi giorni in Abruzzo, l'ha incontrato. Che impressione le ha fatto anche proprio a livello umano come figura? Guardi, con D'Amico abbiamo una nota in comune. Siamo nati tutti e due in due paesini piccolissimi, il mio paese adesso farà circa 300 abitanti, il suo poco di più, 400-450. Veniamo da famiglie molto semplici di origine. Abbiamo fatto un percorso di studi serio e ovviamente accademico di ricerca, siamo due colleghi universitari, io insegno diritto privato, lui è economia aziendale, parliamo lo stesso linguaggio, sappiamo che la competenza, lo studio dei dossier è la prima cosa, non andare in tv, parlare, chi è più capace a comunicare, chi è più capace a coniare slogan. La prima cosa se vuoi aiutare i cittadini è studiare, studiare, esprime competenza e ovviamente anche capacità organizzativa, che lui ha dimostrato, ripeto, come rettore e come presidente dell'ARPA e poi del TUA, dei trasporti locali, dell'azienda di trasporti locali e poi qualità per me essenziale, grandi onestà e lui ha tutte queste caratteristiche. Quindi ho trovato sinceramente una persona, la persona ovviamente che sapevo avere queste qualità, le ho riscontrate, sono state confermate, c'è veramente grande stima da parte mia e spero che gli elettori abruzzesi si vogliano bene con questa istanza di rinnovamento, riescano a tradurla nelle urne. Ecco, un'ultima domanda, proprio mi risponde a un sì o un no, lei nei giorni scorsi ha detto di voler introdurre in tutte le regioni che conquisterete un reddito di cittadinanza regionale che vada in qualche modo ad integrare ciò che ne resta a livello statale. In caso di vittoria avanzerete questa proposta anche in Abruzzo? Ci sono famiglie che non hanno di chi sopravvivere, sono in condizioni di difficoltà, ma anche momentaneo, lo faremo a livello regionale e lo faremo anche a livello europeo. Perfetto, ci sarebbero molte altre cose che avremmo voluto chiedere al Presidente Conte, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ringrazio allora il Presidente Conte per essere stato con noi, un grazie anche ad Antonio Liberardino in regia e a Mauro Di Pietro per il coordinamento editoriale, spoiler speciale elezioni, torna mercoledì e venerdì prossimo per gli ultimi due appuntamenti preelettorali, grazie per averci seguito e continuate a seguirci. Grazie a tutti!